buongiorno benvenuti questo mercoledì 10 maggio la rassegna stampa la zuppa di porro intanto vi voglio dire che nulla mi diverte di più rispetto a questa zuppa di porro non so quanti di voi condividano con me ma molti secondo le statistiche che facebook e youtube potete anche vederla su youtube questa questa rassegna stampa quindi grazie a tutti voi per seguirmi sempre con tanta attenzione ieri abbiamo fatto 150 mila persone quindi insomma dei numeri incredibili allora andiamo oggi a parlare di quello che c'è sui giornali e quello che c'è oggi sui giornali ti fa venire veramente un po il dubbio sul fatto che i giornali abbiano gli occhiali giusti cioè non quelli miei ma quelli di una persona normale che riesce a ragionare in maniera normale perché noi dai giornali di oggi scopriamo che obama obama che ieri con in tasca 3 milioni di euro ritirati da impiegati commesse giovani ragazzi italiani che lo hanno pagato per ascoltare peraltro hanno ascoltato hanno pagato 850 euro per ascoltare obama e gratis potevate vederla in streaming su qualsiasi sito internet cioè per stare in una sala e avere a che fare con questa rock star che ha detto delle banalità incredibili hanno pagato 850 euro beh insomma per i giornali italiani e qui si crea il furto cioè il furto in termini buoni perché se uno vuol pagare 850 euro e obama è un suo mito fa benissimo a spendere io non ho nulla contro di loro però cerchiamo di rimettere le cose nella loro dimensione beh obama oggi i giornali soprattutto il corriere della sera lo incenza come giuro giuro vi leggo il titolo corriere della sera di oggi ve lo leggo eh così si sta candidando idealmente a presidente del mondo presidente del mondo obama questi voglio dire ma che gli ha fatto obama altri giornalisti ma che cosa gli ha raccontato io non riesco proprio sono fatto cioè c'è un problema nella mia testa quando io vedo obama senza la gravatta come dice oggi furio colombo che sembra uno ray charles vestito da ray charles che ci spiega che l'alimentazione importante nel mondo e che vi leggo testualmente bisogna educare la gioventù mondiale la leadership porca puttana e che bisogna fare la lotta ai cambiamenti climatici sembra di vedere leggere quel libro che si chiama last fear di michael crayton in cui gli star di hollywood si presentavano con gli aerei privati dicendo che bisognava migliorare il clima oggi abbiamo obama si ha detto che bisogna migliorare il clima inquinando come nessun essere umano al mondo è riuscito a fare nel venire a milano perché ha usato un aereo privato che inquina molto più di un aereo pubblico perché c'è una persona tre persone cinque persone che hanno danno un elemento di inquinamento pazzesco seconda questione fondamentale ha usato 15 macchine per fare quello che noi facciamo con un taxi magari elettrico toyota come si usa a milano che consuma molto di meno l'unica usate 15 poi ha avuto tutta quella gente che lo ascoltava ha avuto cioè ragazzi l'inquinatore personale spiega a noi che non doveva inquinare a noi fa morire è una cosa pazzesca la stessa cosa le banalità assurde per cui io lo so come funzionano i giornali ieri i giornali i miei colleghi che lavorano nei siti internet mi hanno raccontato non sapevano come titolarlo perché ci sono i capi che sono pazzi di obama i cretini diciamo che devono adeguarsi ai capi che fanno finta di essere pazzi di obama le persone che devono fare i titoli dicono come cacchio lo titolo sta specie di nulla assoluto che ha detto obama facendosi intervistare sapete da chi? dal suo cuoco dal suo cuoco cioè obama viene a milano paga la gente 3 milioni di euro per farsi intervistare dal suo cuoco cioè io dico allora quando poi quando poi vedi lo stesso giornale cioè Corriere Repubblica eccetera che ci dicono che invece Trump è una macchietta io oggi veramente leggo Gaggi su Corriere della Sera io non so che cosa gli sia preso Gaggi che è un ottimo collega del Corriere della Sera ottimo la commedia diventa dramma e Trump che è mosso soltanto da sortite umorali perché ha fatto fuori il capo dell'FBI che dieci giorni prima delle elezioni aveva ritirato fuori le mail compromettenti della Clinton quindi un repubblicano nominato da Obama che se la prendeva con i democratici e e e Trump lo fa fuori come Obama ha fatto fuori decine centinaia di uomini per lo spoil sistema americano ma se lo fa Trump questo è una scelta umorale è una commedia che diventa dramma insomma Obama descritto come un mito Trump come una macchietta dei giornali italiani non ci credete Trump è con quel ciuffo orribile dice delle cose assurde però Trump è anche quello che vuole abbassare le tasse pensa che l'immigrazione sia un problema pensa che le felpe avete presente le felpe quelle teste di cavolo che comandano il mondo le felpe che producono in Cina e fanno gli utili in paradisi fiscali e nei loro paesi si occupano soltanto dei diritti degli omosessuali cosa sacrosante i diritti omosessuali quanto è sacrosanto anche i diritti dei lavoratori in Cina quanto è sacrosanto anche i diritti delle persone che non sono omosessuali bene io dico quando trovi un presidente della repubblica americano Trump che non cade in quella trappola delle felpe californiane bisogna sempre e solo considerarlo come un macchietta e questa è l'Italia bellissimo oggi il pezzo di Daniela Ranieri sul fatto in cui invece prende un po' in giro ieri Renzi non l'ho detto anch'io nella segna stampa sul suo Alberto sordismo cioè quello di stare vicino al Marziano a Roma e sembrare un gigante ma la cosa più divertente la cita alla Ranieri c'era anche oggi ieri sui giornali non ve l'ho parlato per non abbiamo avuto me sfuggita sostanzialmente è quella famosa scena che sarebbe venuta in macchina Renzi entra nella macchina di Obama e dice Obama l'hai sentito Macron il giorno dopo le elezioni Obama dice no non l'ho sentito Macron e adesso lo chiamiamo Renzi e Obama si mettono a chiamare Macron è una di quelle scene fantastiche che io non so quale spin doctor di Renzi ha raccontato ai giornali questa cosa e i giornali se la sono bevuta il Corriere della Sera in prima pagina e questo è un dato fondamentale non cita l'indiscrezione sul libro di Ferruccio De Bortoli che a lungo è stato direttore del Corriere della Sera in cui dice De Bortoli che la Boschi da ministro di Renzi aveva chiesto a Ghizzoni all'epoca amministratore delegato della banca Unicredit di valutare l'acquisizione di banca Etruria che stava nella merda fino al collo banca Etruria dove lavorava era nel consiglio di amministrazione il padre della Boschi la cosa perché è grave non tanto perché un ministro si occupa delle banche anche se questo perché tutti i ministri si occupano delle banche ma perché 18 maggio 2015 ricorda bene oggi Repubblica Cappellini quando in aula si presentò alla Boschi per la richiesta di dimissioni fatte dal Movimento 5 Stelle non solo disse se si dimostra che ho favorito mio padre e ho fatto qualsiasi cosa in conflitto di interesse mi dimetto io stessa dalla carica di ministro beh se si è informata col principale banchieri italiano su come piazzare banca Etruria dove lavora il padre beh questo è un grande conflitto di interessi qualcosa di più di un conflitto di interessi ecco oggi Travaglio nel suo fondo dice ma se questo e gli attacchi a Woodcock fossero state fatte da un ministro di Berlusconi o da uomini di Berlusconi cosa sarebbe successo le piazze piene di gente invece siccome l'hanno fatta l'hanno fatta i Renziani la stampa sta zitta devo dire che Repubblica ci va giù come il giornale con Sallusti che dice perché che ha una interpretazione diversa dice Renzi ma perché non la fa fuori questa Boschi sembra che a comandare tra i due sia la Boschi beh questo può essere divertente questa analisi diciamo affettuosa psicoanalitica di Sallusti la verità ci va sopra ci va sopra Libero ci va Repubblica in prima pagina non c'è sul Corriere della Sera la Boschi ha minacciato Querele sui giornali c'è però la cosa è enorme come capite perché è il direttore del Corriere della Sera e viene considerato uomo non da fake news anche se anche se io vi segnalo una cosa su Ferruccio De Bortoli e cioè che lui sulle banche un piccolo inciampo lo ha già fatto perché come voi sapete qua ci divertiamo alla zuppa di porro di scrivere quello che cavolo di dire quello che cavolo ci pare contro tutti tant'è che voglio dire qua sto alla fine finirò con voi e probabilmente senza una lira perché non mi pagate ovviamente su Facebook però bisogna guardare le cose da tutti i lati dal lato della Boschi dal lato di De Bortoli dal lato di Porro dal lato di François che mi fa applausi ora e la ringrazio allora qual è il concetto Ferruccio De Bortoli aveva pestato un'altra diciamo cosettina sbagliata sulle banche quando dice a disse sulla Consip parlò di un sms dell'ex sottosegretario Lotti che sarebbe arrivato a una persona indagata insomma la zona è un po' lunga e lo scrive sul Corriere della Sera Lotti minaccia quella e lei dice guarda che io quell sms non l'ho mandato prima di una certa cosa l'ho mandato dopo e cambiava completamente la storia e De Bortoli ha dovuto chiedere scusa ha detto scusami ho sbagliato a scrivere che era prima ma era dopo e la cosa era sostanziale quindi De Bortoli una fake news molto orientata la messa su Lotti l'ha presa tant'è che si è dovuto scusare sul Corriere della Sera non vorrei che il Corriere della Sera oggi abbia sottovalutato la notiziona del suo ex direttore perché non si fida del suo ex direttore punto di domanda visto la smentita che l'ex direttore ha dovuto fare a un altro importante membro del ciglio magico cioè Lotti boh vediamo ultima cosa Minniti oggi in un'intervista a Repubblica ecco mi hanno rotto le balle questi comunisti perché Minniti è un ex comunista sta facendo bene il ministro degli interni ma è un ex comunista un ex comunista che deve spiegare che la sicurezza è di sinistra avete rotto le palle questo paese è impregnato di cultura di sinistra per cui la sinistra ha sempre spiegato che dobbiamo capire chi ruba la mela che dobbiamo capire gli immigrati che dobbiamo fare l'accoglienza per tutti che le carci devono essere educative che bisogna scontare le pene chi le avete queste cose la destra o la sinistra adesso non ci rompete le balle dicendo che la sicurezza è una questione di sinistra diciamo un'altra cosa Minniti sei diventato di destra non la sicurezza è una roba di sinistra che ci fa la predicozza non è né di destra né di sinistra ma che sta a dire per anni voi comunisti ci avete spiegato questa roba qua per anni ci avete raccontato per anni ci avete raccontato che la giustizia l'ordine l'idea della tolleranza zero di del sindaco di New York era una roba da fascisti eh voi ce l'avete detto e adesso e adesso che ne paghiamo il prezzo ci fate la romanzina caro Minniti caro ex compagno Minniti ci spiegate che è di sinistra la sicurezza eh no e non ce prendete per i fondelli benissimo quello che stai facendo Minniti benissimo ma non ce la raccontate adesso cioè noi dobbiamo anche pensare cavolo cavolo in effetti a ragione Minniti l'ex comunista la giustizia e la sicurezza sono una cosa di sinistra mi viene una rabbia così quando mi leggo oggi la Muraro che parla dei rifiuti di Roma e dice una cosa l'ex assessore super difesa della Raggi si è immolata per la Muraro all'ennesimo avviso di garazia l'ha dovuta mollare nulla è più eh è difficile della riconoscenza la Muraro oggi alla Raggi dice voi nel momento 5 stelle siete degli improvvisati non sapete gestire una città e sui rifiuti so io come si fa voi non sapete nulla devo dire che ne parla anche Rizzo oggi sul Corriere della Sera ce l'avrò questa sera a Matrix perché parleremo del disagio delle città beh devo dire che qualche errore questi momento 5 stelle sulla monnezza a Roma la fanno non che prima le cose fossero migliore ma questa loro ideologia per cui dobbiamo arrivare a rifiuti zero è come eh la sicurezza di Minniti fra un po' ci spiegheranno eh perché non è possibile arrivare a rifiuti zero in un mondo in cui i rifiuti sono una risorsa perché producono energia che in tutto il resto del mondo viene comprata tranne che in Italia saluti ci vediamo questa sera a Matrix un po' lungo per oggi ma spero mi abbiate sopportato condividete se vi piace questa pagina sempre ciao grazie a tutti grazie a tutti